Ciao, benvenuti su Cartesia! Oggi vi propongo una ricetta facilissima, buonissima, ma soprattutto una ricetta velocissima. Il gelato su stecco, panna e cioccolato. Si realizza in pochissimo tempo e con soli tre ingredienti. Ragazzi, se provate questo gelato, mi raccomando, lasciatemi un commento, se volete un bel like e condividete. Vi lascio tutti gli ingredienti qui sotto nell'info box. Per questa ricetta utilizzerò 200 ml di latte condensato e 300 ml di panna zuccherata da montare, la classica panna che si utilizza per i dolci. Bene, adesso amalgamate benissimo il vostro latte condensato con la panna. Una volta amalgamati tutti gli ingredienti, vi servirà un classico contenitore per creare il vostro gelato su stecco. Versate il vostro composto nel contenitore e conservate in freezer per circa 24 ore. Io solitamente lo preparo sempre la sera prima, così posso realizzare il mio gelato il giorno dopo. Trascorse quindi le 24 ore, posso sciogliere il mio cioccolato fondente. Io scioglio il mio cioccolato fondente con un cucchiaio di olio di semi di mais, o in alternativa posso utilizzare l'olio di cocco o una noce di burro. Personalizzate il vostro cioccolato fondente, quindi sciogliete il cioccolato fondente come più vi piace. Per staccare i miei gelati dal contenitore, passate il contenitore sotto l'acqua corrente calda, non bollente, oppure li mettete dentro un recipiente. Il consiglio che vi posso dare dentro il recipiente, mi raccomando, devono stare pochi secondi. Il consiglio che vi posso dare è che dovete uscire tutti e quattro i gelati nello stesso momento. Li mettete in un piatto e subito in freezer. E man mano che sciogliete il cioccolato fondente sopra il vostro gelato, li prendete dal freezer. Dopo che avete decorato il vostro cioccolato fondente come più vi piace, anche con le nocciole o le mandorle tritate, tostate ovviamente, prendete la carta forno, mettete il vostro gelato e lo conservate subito in freezer. E dopo un'ora è già pronto per essere gustato. Ragazzi, è davvero buonissimo, facilissimo e velocissimo da realizzare. Che dirvi? Io spero che questo video vi sia utile. Mi raccomando, iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime videoricette super golose e tantissime altre videoricette troverete sul mio canale. Attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video. E se volete, potete anche seguirmi su Facebook o su Instagram oppure su TikTok come Ricette Golose di Cartesia. Aspetto numerosi vostri commenti. Mi raccomando, condividete e condividete perché questo gelato è davvero super goloso. Ciao e alla prossima! Grazie! 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 Grazie!